CS 2020 naturalmente si parla anche di 8K ma soprattutto di 8K in ambito TV lo fa anche Samsung con la sua nuova linea di TV 8K qui siamo di fronte ai top di gamma della serie Q950 si fanno notare soprattutto per l'assenza completa della cornice l'immagine praticamente è completamente senza cornice come vedete è un infinite screen come viene definito da Samsung ma non solo, si parla molto di upscaling perché i contenuti 8K al momento mancano upscaling con un nuovo processore, nuovi algoritmi di deep learning che analizzano l'immagine la confrontano con tutta la banca dati che ha costruito Samsung in questi mesi, in questi anni e ottimizza ogni immagine upscalata in modo che renda al meglio i dettagli, i colori, il contrasto soprattutto Samsung però ha lavorato molto sull'audio per questa nuova serie di TV su tutta la cornice laterale abbiamo appunto una superficie bucherellata che può sparare fuori il suono ma abbiamo anche degli altoparlanti posteriori in grande quantità che possono riprodurre una virtualizzazione del suono 5.1 e quindi dare grande immersività a tutti i suoni inoltre c'è anche l'intelligenza artificiale che analizza l'immagine e ad esempio se c'è una macchina che passa da destra a sinistra o da sinistra a destra analizza la macchina e il sistema, il DSP del TV riesce a virtualizzare il passaggio del suono anche se non era stato fatto nel mixing originale quindi anche quegli oggetti che suonerebbero piatti, diciamo il TV dovrebbe riuscire, poi sarà interessante provarlo a dare più spazialità anche ai suoni in movimento analizzando appunto l'immagine nuova serie QLED naturalmente top di gamma, 8K Samsung Q950 qui dal CS di Las Vegas per tutti gli altri video continuate a seguirci qui su YouTube e sulle pagine di Hardware Upgrade Grazie a tutti